e vabbè brigati per forza vi devo arrabbiare per forza vi devo arrabbiare potete che dico nei barzaletti sui carabinieri ma com'è possibile voi entrate in un appartamento e invece il nuovo mariolo era stato padrone di casa e loro si dice che ho fesso di guagliarullo ma veramente si dice ho fesso di guagliarullo vi voglio bere basta ah quello che è guagliarullo carnatrista nominato e vista buongiorno marescial ti ho sentito ma ti ho chiamato fesso e un poco lo siete guagliarullo un poco lo siete e invece no ho trovato questo libro in eticola come risolvere il 50% dei tuoi problemi io ne ho cipigliato due così risolvo tutti il 100% dei problemi però come al solito siete un egoista siete un egoista non cattavo quattro è risolvivo pure il problema mio i guagliarullo carmè asoro tu lo sai a te te dico tutte cose carmè io me tengo a una no ma mica una così o capolosi chi ho legato a giacca o quattro adesso per televisione guarda quanto è bella carmè carmè ma io ora mi metto paura coccorone va via se ci ha visto ma ce l'avessero a riuscire a mio marito ma no carmè come stonco non c'è mai addio da Palduccio eh babbo ne puoi parlarmi più tardi ciao carmè ciao cornuta amore tesoro già sei a casa? si ma tu hai capito come è successo? che è successo? ha chiamato collunto sapesse qualche cosa tu amore maritillo mio bollino ma che già sapevi che la gente è strana che dice che quella che la ricerca che la chiave non solo di unicorno si puro esperno si puro esperno no solo di unicorno si puro esperno Ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che bontà, ma che bontà, ma che bontà? Ma che bontà, ma che bontà, ma che bontà, ma che bontà? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che bontà?